okram artoazob che spero che sia il suo nome vero e anche l'immagine profilo dice suoni di merda senza offesa ma è oggettivo mamma ragazzi quanto ci divertiamo oggi sto già male allora io avevo già fatto in realtà un video in cui rispondevo ai miei haters e lo puoi trovare qui qui in alto trovi il link per visionare quel video ed era un video di persone che mi commentavano sulla mia pagina facebook instagram o qui sotto sui commenti su youtube ora però andiamo ad un livello ancora oltre tu lo sai che da un anno a questa parte ho aperto la mia personalissima scuola di formazione online per imparare a suonare pianoforte non faccio in alcun modo più parte del progetto piano sole piano solo maestro come mi dice ancora non faccio più parte di quel progetto in nessun modo c'è ancora il mio volto ma presto sparirà ma ho il mio progetto di formazione che si chiama pianolion.it che è indirizzato essenzialmente ad un target di adulti che vogliono imparare a suonare piano da adulti fino a qui ci siamo allora per far conoscere questa mia nuova realtà sto facendo delle sponsorizzazioni sponsorizzazioni essenzialmente io pago in questo caso sto pagando facebook per far sì che all'interno delle baccheche dei potenziali studenti compaia la mia pubblicità vuoi imparare a suonare pianoforte da adulto ecco è risaputo che nelle sponsorizzate su facebook la gente è ancora più cattiva se già è cattiva nei commenti su youtube non si sa per quale motivo nelle sponsorizzate ancora più cattiva perché essenzialmente tu gli compari senza che loro lo vogliono youtube bene o male ti fa comparire quasi sempre le persone che tu cerchi o con la quale interagisci facebook invece essendo una sponsorizzata a pagamento io gli compaio sulle loro baccheche senza che loro non neanche lo vogliono e molto probabilmente gli sto sulle balle per carità legittimissimo su centomila persone che sono iscritte a questo canale ci sta che almeno un migliaio mi odino e quindi comparendogli sulle loro baccheche senza volerlo questi infervoreti iniziano a scrivermi cose brutte adesso le andiamo a leggere e ci sarà veramente tanto da ridere tra l'altro dato che di per sé la pubblicità deve attirare l'attenzione nella pubblicità ci sono io col dito puntato dove c'è scritto vuoi imparare a suonare il piano ad adulto ora vederti il dito puntato contro non è mai bello e forse anche questo aiuta a suscitare questa questa cattiviera questa cosa e quindi ti faccio leggere i commenti che ci sono sotto questa mia sponsorizzazione che faccio su facebook se pronto andiamo perché sarà un viaggio incredibile allora uno fa ma non era maestro di scacchi questo con tre punti di domande ora voi mi conoscete probabilmente per il piano e c'è gente che mi conosce come divulgatore di scacchi ma sì 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 sono sempre io la stessa persona in realtà faccio tante altre cose mi annoio a fare una sola cosa e sono appassionato in tante cose quindi divulgo in vari ambiti e quindi se un appassionato di scacchi e non gli ne frega nulla del piano mi conosce solo per il lato scacchi se qualcuno appassionato di piano non gli ne frega niente degli scacchi appassionato solo del lato scacchi se qualcuno appassionato di web marketing mi segue per la parte web marketing non gli frega niente degli scacchi del piano mi piace essere così poliedrico e quindi ogni volta che qualcuno per sbaglio mi trova su più canali mi dice ma ma tu mica suonavi il piano ma tu non sei tu 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 non giocavi a scacchi e ormai sono abituato queste cose però loro se la prendono come per dire ma com'è possibile che quest'ora fa due cose ragazzi ora non so che le persone ti etichettano in un modo no tu sei quello che suona il piano punto non puoi fare nient'altro non riesci a camminare non puoi alzare il braccio destro tu puoi solo suonare il piano per le persone questo non è un commento cattivo andiamo veramente in quelli veramente interessanti scorriamo 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 a questo questo è il migliore questo è il migliore okram artoazob che spero che sia il suo nome vero e anche l'immagine profilo dice suoni di merda senza offesa ma è oggettivo allora a parte che sul termine oggettivo potremmo veramente divertirci chi lo chi lo descrive quali sono i termini per suonare bene suonare così così e suonare di merda come dice lui e va bene va bene se lo dice lui che è stato in giuria in tanti concorsi pianistici se lo dice lui allora io mi fido o magari dobbiamo dirlo a quelli della giuria che mi hanno dato i premi a questi concorsi allora innanzitutto bisogna dire dire dirgli a questi qui dove sono arrivato secondo in questo concorso nel 2013 qui non so bisogna andare da 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 tutta da questa fondazione dal dai direttori artistici e proprio bisogna dirgli che insomma che sono oggettivamente di merda e che hanno sbagliato tutto oppure bisogna andare qui in questo concorso del che anno è questo boh non riesco a capire in cui è andato 86 su 100 che non è tantissimissimissimissimo però mi ritengo soddisfatto soprattutto perché c'era gente veramente veramente forte bisogna andare da questo maestro questo maestro questo maestro questo maestro e tra l'altro qui dentro c'è anche c'è anche la crudeli credo che questa sia la sua firma e la crudeli il risaputo che è strettissima coi voti quindi quindi sono felice poi bisogna andare qui sempre questo non mi ricordo mai c'è scritto qui maggio del 2015 dove hanno segnato 85 su 100 e anche qui veramente bisogna dire senti ma come come potete premiare questo col terzo classificato come potete premiarlo questo sono oggettivamente male oppure bisogna andare da questi qui che hanno è non si capisce e bisogna dire ma come avete fatto a dargli 88 su 100 nella categoria di ossia quella senza limite d'età e niente quindi bisogna andare da tutti questi maestri un due tre quattro che hanno giudicato e dire senti ma 88 a questo che suona oggettivamente di merda mi sembra veramente tanto oppure caro okram ho pubblicato proprio qualche giorno fa un video in cui suono un preludio di Rachmaninov e l'ho messo qui su youtube guardi ti do uno spezzone ma c'è il video completo su youtube grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ecco se tu mi suoni questa roba qui mi suoni questo preludio me lo fai sentire in un concerto dal vivo a memoria così allora puoi dire che suono male ma se non sai farlo allora per favore stai nel tuo e dove ti esce tutta questa cattiveria è chiaro molte persone mi conoscono solo perché suono delle cose pop perché faccio dei tutorial facili eccetera ok però in senso state tranquilli state calmi state calmi state calmi non giudicate perché ogni volta che giudichi poi nel 90% dei casi ti ritrovi a doverti ricredere tra l'altro sotto qualcuno gli risponde giustamente grande gialluca dici senti ma vivi di merda senza offesa ma è oggettivo finalmente qualcuno che glielo dice perché insomma ah ma la cosa più bella dell'offesa è che questa offesa ha due like qui devi veramente divertirti sei pronto allora io sono andato così a curioso e ho detto ma chi è che ha messo like chi è che ha approvato questo suo commento vado a cliccare e tra i due ci sono questi e uno dei due il secondo alessandro lettieri questa è fantastica è quando avevo 12 13 anni giù di lì avevo fatto lezioni di pianoforte per un anno due anni con un chiamiamo un amico di famiglia che mi faceva pagare veramente pochissimo parliamo di 10.000 lire l'ora e poi ci eravamo trasferiti avevamo cambiato casa con i miei genitori e quindi eravamo atterrati in questo nuovo paesino in questa nuova città ed eravamo alla ricerca di insegnanti di pianoforte un giorno guardate le coincidenze il mio padre trova nella cassetta della posta sai i soliti filettini do lezioni private di pianoforte insomma e scopriamo che questo insegnante di pianoforte abitava tipo a 500 metri neanche da casa nostra e così andiamo a chiedersi insomma fare la classica lezione di prova chiedere quanto chiedeva lezioni perché comunque le lezioni di musica sono abbastanza onerose giustamente però sono abbastanza onerose insomma ci facciamo questo incontro così di prova e lui all'epoca era ancora uno studente se mi sbaglio all'ottavo anno di conservatorio e niente alla fine non si cogliò nulla per vari aspetti però è bello come piccolo mondo e alla fine forse forse è risentito che non sono più diventato su allievo no scherzo e vabbè comunque ognuno può avere può avere i propri le proprie idee andiamo giù oh questo è bello questo è bella perché poi alcune molte persone credono veramente in quello che scrivono però rimani fino alla fine del video perché io poi ti farò vedere i commenti che scrivono le persone che sono all'interno del mio corso dei miei corsi di piano lion e ti faccio vedere che cosa penso perché molti dicono come fai a insegnare il pianoforte a distanza Marco ci è impossibile insegnare uno strumento in dad didattica a distanza perché ci sono tante impostazioni tecniche sedute l'impostazione con un professore competente va bene vabbè questo più che hater è uno che la pensa non è che mi ha offeso così gratuitamente vabbè i soliti commenti da Barley su nel piano di la tromba vediamo 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 vabbè questo è un altro io conosco una coppia e sono nel piano dell'altro questi sono i bumeroni che fanno le chiacchiere da Bar su Facebook non capisco molti commenti alcuni hanno proprio problemi ben più gravi l'app funziona male pensavo fosse una cosa diversa si pianta e non va più avanti questo qui probabilmente ha confuso il mio corso piano online con una delle mille app per suonare per imparare su online non è un'app la mia è un video corso di formazione con assistenza quest'altro le studiano da sottoterra mi faccia piacere va bene non la capisco oh finalmente Mauro dice questi commenti prende un po' le difese questi commenti offensivi non li capisco ognuno è libero di proporre un'idea e deve anche farsi pagare perché è gratis ok finalmente Mauro Mauro un paladino della giustizia ok qui chiedono i costi ah ah questo 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 Gianfranco dice ma perché prendere in giro così la gente io le mani sul pianoforte le ho messe a otto anni ho studiato ho studiato ho studiato facendo anche tre ore al giorno leggere semplicemente meraviglioso maestro mi fa non anche qui faccio fatica a capire e però che cosa succede che molti dicono vuoi imparare sul pianoforte l'adulto e si risentono e dicono cazzarola io che ho iniziato otto anni e ho studiato per tutta la mia adolescenza sul pianoforte eccetera 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 sì ma il percorso che io propongo non vuole farti diventare Mozart cioè non gliene frega niente a nessuno vuole imparare farti mettere due mani sul piano a fare qualche notina quella che ti crea qualche emozione dato che non abbiamo ambizioni di diventare grandi concertisti siamo persone adulte che lavoriamo otto ore al giorno siamo pieni di problemi la sera vogliono stare in mezz'oretta sul nostro pianoforte e scaricare le nostre attenzioni punto c'è bisogno di dire eh ma allora io che ho fatto vent'anni di conservatorio non sono servito a niente no bravo bravo cioè hai fatto benissimo hai fatto bene anch'io li ho fatti però nel senso non tutti devono arrivare lì perché in Italia c'è sta cosa che uno che suona il piano deve per forza finire tutto il concerto altrimenti non puoi suonarlo chi lo dice Luigi oh forse qualcuno dalla nostra parte salve io mi sono iscritto pur avendo già 70 anni di seguire Cristian Zalena nel suo metodo spero grazie su qualche infariatura di nozione no bene non ho capito ok qui chiedono il costo ok ok qui Sergio dice dipende cosa si intende per imparare se qualcuno sia contento di poter appoggiare le dita esatto esatto è chiaro è chiaro ok ok vediamo se c'è qualcun altro sicuro c'è qualcun altro sicuro ci sono eh perché adesso eccolo eccolo Stefano ma non ti vergogni suonare uno strumento è un'arte necessita di un insegnante che ti corregga la postura posizione e ore e ore di esercizi per anni e qui ritorniamo al discorso di prima e per quanto riguarda la postura e la correzione di tutto è vero chiaro che se hai un maestro fisico nel momento in cui c'ha le spalle alzate e a lui da dietro te la bassa ma nel percorso che ho fatto io dato che è un percorso comunque a distanza appunto c'è un'assistenza quindi tu ti fai fare un video da tua sorella da tua mamma da tuo fratello mentre suoni mi mandi questo video e io dal video riesco a vedere se la tua postura è buona o non è buona a quel punto dico no devi alzare lo sgabello devi avvicinarti 20 centimetri e posso farti anche un video per correggere la tua postura quindi chiaramente indifferita non è in tempo reale però questi sono gli strumenti che ci permettono Samantha perché uno a 20 è adulto ma non scemo ok Alessandro se ti dicessi le lezioni online sono una sola e Alessandro non so che esperienze hai avuto tu fra poco ti faccio leggere le esperienze dei miei studenti probabilmente ti sei affidato al corso sbagliato di resta è un video microscopica ok perché il titolo è se ti dicessi che si può suonare il pianoforte d'adulto ma io in realtà ho insegnato anche a studenti di 76 anni che hanno iniziato quindi si può fare ok lei va immediatamente alla parola gratis ok perché io dicevo iscriviti a questo seminario gratis che ti spiega come qual è il mio metodo ok ok unici ma anche no con più punti esclamativi che altro ma adesso arrivano arrivano quelli belli no sono finiti ma ce n'erano di più belli sono finiti davvero no dai non ci posso credere aspetta aspetta qui ci sono qui ci sono le risposte no non ci posso credere ma ce n'erano alcuni veramente belli niente non ne trovo altri mi ricordo che c'erano altri anche più più cattivi però saranno stati rimossi non ne ho idea e niente quindi questo è il discorso queste sponsorizzate continuano quindi io non leggo oppure se perché comunque un pochettino ci rimani male quando vedi gente che ti insulta per quanto tu puoi avere una corazza e sono dieci anni che sono online non fa mai piacere gente che ti insulta gratuitamente quindi se posso evito di leggere ogni tanto mi capita la notifica di facebook qualcuno ha commentato e tu se gli dici leggo non leggo poi magari leggi e ci rimani male siamo tutti esseri umani la gente a volte non lo capisce quando scrive determinate cose e niente tra l'altro scrive senza giudicare e adesso come ti dicevo come promesso ti faccio vedere proprio che cosa dicono gli studenti andiamo allora qui siamo alla lezione numero 13 del corso suonare il pianoforte in sei mesi sono due attualmente i corsi che ci sono su piano lion ne usciranno altri lezione 13 dedicata al si chiama brano con pedale metronomo sotto ci sono ovviamente sempre delle descrizioni quindi la lezione dura 29 minuti e 57 secondi e sotto ci sono link per scaricare esempi e tanti altri approfondimenti sotto ci sono tre commenti una di un weekend fa un weekend fa e questa è di quattro mesi fa Paola dice tutti gli esempi che Cristian cita sono assolutamente perfetti aiutano tantissimo esempio la mano con palleggio la mano con palleggio da basket è straordinaria grazie maestro becchi dice tanti argomenti che credevo di conoscere ma solo adesso grazie a queste ottime spiegazioni finalmente ho approfondito grazie e Andrea dice grazie di questa lezione super ottima dopo un mese e mezzo ci vuole un po' di motivazione ulteriore ok mi fa sempre piacere io poi rispondo sempre con grande piacere a questi commenti nella lezione 14 che è quella successiva tra i vari commenti ritroviamo anche Andrea che dice grazie e complimenti anche per questa lezione sto procedendo speditamente con il tuo corso è noto miglioramenti impensabili rispetto a due mesi fa sono felicissimo saltiamo poi a quest'ultima lezione la numero 30 dalla durata di 37 minuti cioè sempre il commento di Andrea che dice da ottobre ad oggi questo è stato fatto un mese fa quindi sarà gennaio da ottobre ad oggi è stata una bella cavaccata tutte le lezioni sono state magistrali è stato un onore aver fatto parte di questo progetto grande grande Andrea grazie sono stra 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 felice ma forse i commenti ancora più belli le maggiori soddisfazioni le ho avute invece dal corso improvvisazione facile qui siamo alla lezione 4 del percorso improvvisazione facile dedicato allo shuffle con un po' di esempi sempre robe da scaricare qui sono dei commenti veramente bellissimi c'è un commento dal avvocato Giancarlo che dice hai una dote unica rendere facile quello che è difficile per un principiante grazie 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 di tutto anche Maurizio grazie Cristian sei la dimostrazione vivente di quanto sia fondamentale per capire in qualsiasi argomento la persona che lo spiega oggi stavo seguendo un'altra lezione dopo due minuti avevo già voglia di chiudere l'ho fatto al decimo e quindi non ho finito la lezione adesso ho appena terminato di sentire questa tua spiegazione non solo mi sono divertito ma l'ho risentita due volte per il solo piacere di sentire come affronti con semplicità gli argomenti finalmente ho trovato un maestro da cui riesco a imparare qualcosa grazie 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 di cuore nella lezione 5 del corso Phil Bassi dice ho seguito alcuni anni fa un corso con te l'ho trovato ottimo non posso confermare il giudizio grazie per la chiarezza e la precisione e poi chiedo un po' di domande tecniche lezione 14 del corso di 24 minuti si chiama miglioriamo la mano destra un po' di esempi come al solito è roba da scaricare un mese fa MelaR1 dice ciao Cristian il corso è veramente eccellente tu hai una forza nell'esporre le tue lezioni che mettono in moto almeno in me una voglia di fare e di mettere alla prova chi ti sta ascoltando ok poi fa delle domande di tipo tecnico sulla lezione lezione 16 improvvisiamo una canzone alla fine Maria Alice un weekend fa dice ciao Cristian piacere di conoscerti prima di tutto ti ringrazio per aver racchiuso in questo fantastico corso quello che in anni di studio ed esperienza hai appreso sull'improvvisazione è un percorso bellissimo entusiasmante che con tanta pazienza e ore di pratica so che porterà grandi soddisfazioni e poi qui ne approfitto per dice va bene va bene va bene e alla fine sull'ultima lezione del corso di improvvisazione la numero 18 dove c'è scritto suona sulle basi musicali perché ci sono delle basi musicali da scaricare ci sono due ultimi studenti che sono arrivati alla fine e hanno voluto lasciare un commento Michele di Micheluciv dice salve Cristian avevo dei dubbi sulle lezioni di piano online essendo abituata a maestri seduti accanto che ascoltano ciò che suoni in realtà la mia perplessità è capire il mio livello di competenze pianistiche per poter procedere nello studio e migliorare tuttavia alcuni aspetti sono interessanti come poter riascoltare la lezione a prescindere da tutte le mie perplessità il corso è stato molto utile ed interessante e questo secondo me vale veramente tanto Claudio dice ciao Cristian volevo farti i complimenti per questo bel corso ok qui mi ha segnalato una cosa che io poi quando mi insegniamo qualcosa sono pronto ad intervenire e a sistemare subito ragazzi quindi in questo video di oggi abbiamo bilanciato i haters con commenti quindi gente che non sa come sono fatti questi corsi e non lo saprà mai perché non gli interessa gente che è entrata dentro e che a quanto pare ha avuto dei feedback positivi sono solo felice presto su Piano Lion usciranno altri altri corsi ce ne sono già in programma per marzo aprile e non usciranno altri quindi bene bene avanti tutta e come al solito quando fai qualcosa ci sarà sempre qualcuno che ti criticherà l'unico modo per non ricevere critiche è non fare nulla ma non è nel mio stile quindi purtroppo mi rivedrete sempre qui su questi schermi un abbraccione ciao a tutti ciao aglio